Come attrarre i turisti nella nostra Caltanissetta? A porsi la domanda è Ottavio Rizza, che sin da bambino ne sente parlare e sin da quando suo nonno lo portava con lui ad assistere ai consigli comunali nei quali, spesso, assisteva a lunghi botte risposte tra i consiglieri Mario Arnone e Ottavio Rizza. Da circa 50 anni si sente parlare di sfruttare la centralità geografica in Sicilia di Caltanissetta per finalità turistiche. Ottavio Rizza ha sempre sognato che Caltanissetta non dovesse limitarsi a sfruttare la propria centralità ma che dovesse brillare di luce propria. A tal proposito lo abbiamo ascoltato ai nostri microfoni e farci spiegare la sua idea di rilancio della città. Si tratta di un'idea che mira a sollecitare tutti coloro che hanno un ruolo istituzionale nella nostra città ma anche coloro che in questo periodo hanno tensionato l'utilizzo dell'antenna mi riferisco al comitato, associazione, per far sì che questo bene di cui la città è in possesso possa essere utilizzato nel miglior modo possibile a livello turistico. L'idea parte da un ragionamento. Io so perfettamente che questa antenna per essere mantenuta richiede dei costi notevolissimi e so bene che per poter sostenere questi costi bisogna avere le idee chiare e avere la certezza che questi costi poi possano determinare o uno sviluppo della città o dei ricavi che superano i costi. Quindi l'utilizzo dell'antenna secondo me dovrebbe essere un utilizzo davvero spettacolare nel senso che la nostra città dovrebbe dar vita a uno spettacolo unico in Italia ma aggiungerei unico anche in Europa e nel mondo cioè sfruttare questa antenna per dar vita a dei giochi di luci, giochi di acqua che siano uniche nel loro genere. Secondo me solo così questa antenna potrà essere utilizzata nel migliore dei modi cioè io mi rendo conto che le idee sono difficili da realizzare io non sono nato ieri, lavoro nella pubblica amministrazione da quasi 30 anni e so benissimo che le idee sono una cosa, la realizzazione delle idee è ben altra so bene che per riuscire a realizzare questa idea bisognerà sedersi nei tavoli giusti il comune, la regione, la soprintendenza per poterla realizzare il miglior modo possibile questa non la sede per spiegare nei dettagli quella che è l'idea ma in sintesi consisterebbe proprio in questo in uno spettacolo di luci, di acqua e magari con altre idee originali che farebbero sì che Caltanissetta diventi diciamo la sede di uno spettacolo che dovrebbe attrarre il turismo. Io mi rendo conto che ci saranno ostacoli particolarissimi ma ostacoli che secondo me si possono superare. Io faccio l'esempio dell'Arena di Verona L'Arena di Verona è stata costruita nel primo secolo dopo Cristo e l'antenna di Verona è stata oggetto di manutenzione con costi notevolissimi e l'antenna di Verona viene utilizzata non solo per la sua bellezza di anfiteatro ma viene utilizzata per manifestazioni canore, per eventi sportivi Giro d'Italia che si è concluso tanti anni a Verona ricorda anche una partita nell'88 tra le superpotenze della guerra fredda Russia e Stati Uniti che fece una partita di pallavolo e di tutto e di più. Quindi noi dobbiamo volare alto secondo me dobbiamo volare alto e cercare di credere in un progetto che faccia sì che questa antenna possa veramente essere diciamo un'attrazione per il turismo nella nostra città.